La legna migliore Il dovere di un capo è quello di servire il suo popolo e la sua terra Proprio così, ma è chiaro che il nostro pensa solo ai suoi interessi Allora non è un buon capo Esatto, e se rimuoviamo l'origine del problema, il problema scomparirà Il popolo di Lesbo merita di beneficiare delle risorse della sua isola Se ti ha soldo ci aiuti? Posso aiutarvi a togliere di mezzo il problema Dove posso trovare il capo di Lesbo? Vive a Mitilene Quando non è a casa sua, ispeziona le truppe nel forte o prega il suo dio Insomma, qualsiasi cosa pur di non lavorare sul serio Lesbo è ricca di risorse Perché il capo avrebbe bisogno delle risorse di Chio? Che Zeus mi fulmini se lo so Continuiamo ad abbattere i nostri alberi e a uccidere i nostri animali per Mitilene Presto non resterà più nulla Toglierò di mezzo il problema di Mitilene per voi Quando avrai finito, invierò la ricompensa alla tua nave Che Zeus mi fulmini se lo so Che Zeus mi fulmini se lo so Devo cercare il capo a casa sua, al forte e al tempio Che Zeus mi fulmini se lo so 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 Ah! Almeno stai provando a colpirmi! Ah! Non mi conviene farmi scoprire. Stai cercando di metterti nei guai? Vattene da qui. Stai cercando di metterti. Stai cercando di metterti. Un altro membro della setta, ovviamente. Questa è la sua. Questa è la sua. Grazie.